Buon pomeriggio e benvenuti a Overbook, un libro per legittima difesa in compagnia di Enzo Di Brango. Oggi un argomento particolarmente interessante, un argomento che ci prenderà sicuramente tutto il tempo nella discussione e forse ci darà modo anche di ritornarci successivamente, perché parliamo del fenomeno della pedofilia nella Chiesa, è appena uscito un libro molto interessante, perché i preti sono pedofili e non ha il punto interrogativo alla fine, è un'affermazione, non è un interrogativo, il libro è di Carla Corsetti, che abbiamo ospite qui da noi in studio alla Radio Città Aperta, perché nel libro non si parla solo di pedofilia come fatto clinico eventuale, ma si parla di tutto quello che è l'aspetto complessivo del fenomeno dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, della possibilità di capire se l'Italia un giorno avrà la fortuna di diventare davvero uno Stato laico e quanto l'influenza delle dottrine e soprattutto del fideismo clericale incidano ancora sulla società italiana. Carla ha scritto questo libro ed ha precisato nella prefazione che è quello che lei pensa e che tutti sono liberi di non essere d'accordo. Questa è una bella premessa per capire invece se riusciamo a convenire in un paese dove si tende a dividersi più sulle cose inutili che non sulle cose che invece hanno una valenza e un valore particolare, se è possibile fare un ragionamento più complessivo. Io vorrei avvicinarmi al ragionamento che ci interessa fare partendo proprio da una questione tecnica. Carla inizia raccontando un po' quelli che sono gli aspetti particolari che vigono un po' nel clero mondiale, cioè la misoginia, l'omofobia e la castità, che sono tre fattori importanti e che spesso vengono scomodati, molto spesso sproluquiando direi, per giustificare determinati comportamenti del clero che invece andrebbero letti anche da un punto di vista giuridico e sociale. Perché? Perché Carla scrive che la misoginia di per sé non porta alla pedofilia, l'omofobia di per sé non porta alla pedofilia, la castità di per sé non porta alla pedofilia. Ma tutte e tre messe insieme? Innanzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori. Tutte e tre messe insieme possono portare alla pedofilia, ma c'è una componente ulteriore e è quella della ritualità e della liturgia che nella religione cattolica diventa una componente fondamentale. Nella religione cattolica ci sono comportamenti ritualizzati ormai da duemila anni che portano le persone che praticano questa religione nella veste di mediatori e io aggiungerei mediatori mercificati della spiritualità, ovvero i preti, portano questi soggetti a comportamenti che associati alla misoginia, associati ad altri comportamenti riprovevoli generano in queste persone una pulsione sessuale nei confronti di soggetti indifesi sui quali esercitare l'autorità, sui quali poter disporre senza limiti e la pedofilia clericale quindi assume una connotazione diversa dalla pedofilia che può esserci in altri strati della società. I pedofili non sono soltanto preti, vorrei specificarlo anche se mi sembra banale specificarlo. La pedofilia è una cosa che attraversa trasversalmente tutto il pianeta, tutto il genere umano, ma nel clero cattolico quello che io ho esaminato in questo libro assume delle connotazioni particolarissime perché questi atteggiamenti di misoginia, di omofobia, di castità e di atteggiamenti poco condivisibili si associano e si amalgamano con una dottrina che li sponsorizza che diventa l'ossatura sulla quale la pedofilia si costruisce. Ma c'è da aggiungere anche un'altra connotazione che è una connotazione di carattere giuridico. La pedofilia analizzando le direttive del diritto canonico, la pedofilia è un comportamento quasi normale da giustificare, è un comportamento che non può essere grandemente punito, anzi è un comportamento che in qualche misura viene favorito ed è per questo che io in questo libro avanzo anche un'altra ipotesi, aspetto che mi venga smentita con dati oggettivi. Io ritengo che la pedofilia nel clero cattolico sia strutturale e sia strutturale perché agevola la sottomissione delle popolazioni. Lo stupro da sempre è stato un'arma di guerra, non c'è stato un solo conflitto che non abbia portato con sé lo stupro perché attraverso lo stupro le popolazioni contro le quali si va in guerra si sottomettono più facilmente. Nel clero lo stupro dei minori è stato favorito a tal punto da non poter fare a meno di pensare che è stata una delle modalità attraverso la quale la chiesa cattolica ha sottomesso le popolazioni. Nessuno riesce a mettersi contro un prete, nessuno riesce a mettersi contro un vescovo, nessuno riesce ad alzare la testa contro queste persone. La sottomissione è generalizzata, hanno tutti paura del clero e non mi venissero a dire che poi c'è qualche prete che si distingue e che non si è mai macchiato di queste, chiamiamole per ora colpe, ma poi ritornerei anche su questo termine. Perché anche coloro che non lo hanno fatto direttamente erano al corrente dei reati commessi dai loro colleghi, li hanno protetti. Secondo il diritto penale si chiama favoreggiamento. Secondo una dottrina penale internazionale c'è comunque una responsabilità da parte di chi sa, di chi dovrebbe denunciare e non lo ha mai fatto. Perché tutte le denunce che poi arrivano alle autorità civili non sono mai arrivate da un vescovo, non sono mai arrivate da una autorità ecclesiastica. Le denunce che sono arrivate alle autorità civili sono sempre partite dalle famiglie, sono sempre partite dalle vittime, mai dalle gerarchie ecclesiastiche, perché le gerarchie ecclesiastiche questo comportamento lo favoriscono. Tu scrivi una cosa che secondo me dovrebbe far riflettere molti, tutti quelli che la leggono, perché è una cosa di una semplicità estrema ma che nessuno ha mai preso in esame dal punto di vista tecnico. Ad un certo punto del tuo libro, pagina 24, io leggo, non è un caso che se un prete ha una relazione sessuale e affettiva con una donna adulta viene ridotto allo stato laicale, ma se ha ripetuti rapporti sessuali con minori, anche violenti, non viene ridotto allo stato laicale. Cioè questa sorta di perdonismo che è inglobato all'interno della cultura cattolica, ma che qui si esplicita su cose che hanno una valenza sicuramente penale, come va combattuto? Va combattuto riconducendo al diritto penale i comportamenti che sono riprovevoli, che sono antisociali. In realtà nel diritto canonico c'è una grande mistificazione, perché nel diritto canonico si confonde il piano del peccato con il piano del reato. Un comportamento del genere, secondo il diritto canonico, non è qualificato come un reato, ma è qualificato come un peccato. Dal peccato ci si può salvare semplicemente attraverso quei meccanismi perversi che sono quelli della confessione e della soluzione. E quindi non c'è mai una responsabilità, non c'è mai un tribunale che accerta una responsabilità. Perché quando anche il prete, dopo ripetuti abusi, viene ricondotto davanti alle autorità giudiziarie e ecclesiastiche, la condanna più grave che può sopportare un prete che ha stuprato decine di minori, tutto al più viene mandato in un convento di periferia ad occuparsi per qualche mese dell'orto e a fare due o tre ritiri spirituali. E questo è abberrante. Allora, quello che voglio sostenere è che se, e lo scrivo anche in un passaggio di questo libro, se in uno stato qualsiasi le autorità emanano una legge a favore della corruzione, ritengo che quella legge debba favorire il potere attraverso la corruzione, cioè il potere preserva se stesso favorendo una certa dinamica di corruttela. Se in uno stato qualsiasi, ma neanche uno stato qualsiasi in questo caso, il Vaticano, si emanano delle direttive per proteggere la pedofilia, vuol dire che questa pedofilia viene favorita perché è funzionale al potere. E in che modo una cosa del genere può essere funzionale al potere? La pedofilia porta con sé la soggezione di intere generazioni di individui e adulti. Ed è una cosa che noi possiamo riscontrare perché effettivamente, ripeto, in Italia dei preti si ha paura. Nessuno ha il coraggio di mettersi contro di loro e loro vivono una sorta di deresponsabilizzazione generalizzata, per cui si sentono al di sopra di tutto, pensano che dal momento che loro rispondono soltanto alla legge divina non verranno mai puniti, non ci sarà mai nessun tribunale che li porterà in carcere e quando questo è accaduto è stata una rarità. Ma c'è un'altra cosa che io vorrei sottolineare. Spesso capita che vengono individuati dei preti come responsabili di abusi su minori. Si tratta sempre di personaggi molto amati dalle comunità. Sono persone che riescono ad avere un consenso attorno a loro che non fa dubitare della loro, possiamo definirla immoralità, ma in realtà è la loro tendenza al crimine. Queste persone quando vengono individuate e vengono portate davanti alle autorità penali e quindi alle autorità civili ottengono immediatamente la solidarietà delle loro parrocchie. Si fanno fiaccolate di solidarietà, si prendono di mira le vittime perché hanno usato mettere in dubbio che il rete possa aver fatto una cosa del genere. Quindi il minore abusato o la famiglia del minore abusato, prima di trovarsi in un vortice sociale di emarginazione, ci pensa due volte prima di denunciare. Spesso i minori non denunciano, aspettano di diventare adulti per maturare questa decisione, ma nel frattempo sono arrivati i tempi della prescrizione, perché i tempi della prescrizione sono all'incirca di 17 anni e mezzo. Un minore che è stato abusato attorno ai 6-7 anni, un percorso di maturazione per arrivare a denunciare il prete pedofilo, questo percorso di maturazione può anche durare una ventina d'anni e quando si decide a farlo ormai secondo la legge penale è troppo tardi. I preti contano su questo, sanno che il minore tace perché ha paura, perché ha paura di dire ciò che è indicibile. Due aspetti su queste cose che dicevi perché le trovo assolutamente interessanti. La prima mi è capitato direttamente di riflettere, sere fa vedevo in un passaggio di blob in televisione un prete che difendeva la categoria proprio sull'argomento pedofilia sostenendo che il 95% dei preti è pulito da questo punto di vista. Mi è passato questo dato con abbastanza conforto perché ho detto che la stragrande maggioranza dei preti non ha a che vedere con questo crimine. Tu invece scrivi esattamente la stessa cosa ma al contrario e mi è scattata poi la mia deformazione statistica quando dici che il 5% dei preti che sono pedofili rappresentano un prete ogni 20. Un prete ogni 20 significa che mediamente tre preti per parrocchia in sei parrocchie noi abbiamo un pedofilo e sei parrocchie significa che in ogni quartiere di Roma teoricamente potremmo avere un prete pedofilo quindi il rapporto è assolutamente alto non è assolutamente basso. I numeri anche in questo caso vanno letti approfonditamente perché hanno un loro significato se riparametrati sul sociale nel contesto. Ma si tratta comunque di statistiche al ribasso perché la maggior parte dei preti non viene denunciato e non rientra in queste statistiche. Queste statistiche fanno riferimento soltanto a casi eclatanti che sono arrivati alle autorità giudiziarie e tutti gli altri, tutti gli altri che non sono mai stati denunciati e sono molti, non c'è persona che non si incontra alla quale non si dice qualcosa sui preti e che dice ah sì ma quando ero piccolo anch'io un prete mi ha avvicinato, ah sì quando ero al catechismo un prete ha cercato di abusare di me, ah sì io ero nell'oratorio e un giorno il prete mi si è avvicinato e voleva fare delle cose con me e io ero troppo piccolo. Ogni persona ha avuto un contatto del genere e questi contatti non sono inclusi in queste statistiche ma ce n'è anche un'altra di statistica che è quella che è stata riferita proprio dalle autorità ecclesiastiche quando loro sostengono che rispetto alla popolazione dei pedofili in realtà i preti costituiscono il 3% non fanno altro che dire parametrando questo rapporto e questa percentuale con la popolazione civile che un prete ha 50 possibilità in più di essere pedofilo rispetto ad una persona del mondo civile, chiamiamola civile anche se come aggettivo mi sembra improprio per dire una persona laica che non fa parte del clero. Si tratta di percentuali altissime ma ripeto si tratta di percentuali che sono state rese ufficiali rispetto a una casistica di denunce altrimenti la percentuale sarebbe di gran lunga più alta ma di gran lunga più alta perché molti preti non sono mai stati denunciati eppure tutti magari sapevano che quel prete si comportava in un certo modo con i bambini. Io ricordo anni fa di aver letto un saggio interessantissimo fatto da un gruppo di studiosi che ruotava intorno all'allora partito comunista sulla confessione, sul rito della confessione e in realtà questo saggio poneva in relazione la confessione all'attività porta a porta dominicale che facevano i comunisti negli anni 60-70 con la diffusione dell'unità perché proprio attraverso la confessione i comunisti avevano scoperto che la chiesa controllava il territorio perché era uno strumento fortissimo, incredibile di controllo di quello che era il suo contorno, di quello che era l'humus umano dell'attività parrocchiale e i comunisti in maniera laica cercavano di fare la stessa cosa con la visita a domicilio portando il giornale parlando dei loro problemi. La confessione che va ad intersecarsi con la dicotomia che tu hai fatto presente prima ma che io vorrei approfondire, cioè reato e peccato non è un'equazione il reato-peccato, il reato è reato, il peccato è un'altra cosa, rientra in altre dinamiche che poco hanno a che vedere, anzi nulla hanno a che vedere con i nostri codici civili, penali, amministrativi e di procedura. Certamente, ma c'è il fatto che il peccato sia ricondotto allo strumento della confessione, attraverso la confessione poi si debba aggiungere alla soluzione, non solo si ha il controllo della società, noi ci siamo stupiti con il decreto intercettazioni, la Chiesa l'ha fatto da sempre, attraverso questo strumento ha intercettato intere società. Sapere attraverso la confessione le cose che nessuno sa è un modo per poter tenere il controllo su tutti, anche su coloro che non interagiscono direttamente con te e molte di quelle cose che vengono dette nella confessione, costituiscono un humus sul quale poi esercitare una politica di potere. Del resto, mettere al corrente un altro soggetto del proprio segreto significa già conferirgli il potere su di te perché lui sa ciò che altri non sanno, ma questo è nelle dinamiche umane da sempre. Attraverso la confessione comunque si arriva poi al controllo delle attività che non debbono essere conosciute da altri. Attraverso poi il successivo passaggio che è quello della soluzione, le persone che hanno commesso degli atti che vengono qualificati negativamente dalla Chiesa vengono assolte, ma in quel modo le tieni in pugno perché tu diventi il mediatore della spiritualità anche di ciò che gli altri non possono capire, ma il tuo Dio e il tuo parroco queste cose le comprende e te le perdona. È un meccanismo perverso di assoluta de-responsabilizzazione perché se c'è un Dio che ti perdona, perché gli uomini non ti devono perdonare? Allora che senso ha il processo? C'è una delegittimazione della giustizia civile perché vale soltanto quella divina, ma non è così perché quella divina non si sa se esiste, anzi io penso che non esista, ma non conosco nessuno che sia stato processato davanti alla legge divina. Conosco persone che vengono processate davanti alla legge degli uomini e quando vengono processate davanti alla legge degli uomini sarà forse anche il caso che rispondano delle azioni anche in termini di risarcimento perché a me non giova sapere che ci sono autorità ecclesiastiche con il pontefice in testa che chiede scusa. Le scuse non bastano. Proviamo a risarcire le vittime, possiamo provare a far sì che quando le vittime ottengano dei risarcimento dai tribunali civili le curie non dicano di non avere nulla in cassa? Proviamo a risarcire, proviamo a far tirar fuori alla Chiesa il denaro per pagare ciò che deve essere pagato secondo le autorità civili? Allora io posso anche accettarle le scuse ma le scuse che vengono dette in maniera così generalizzata senza che ci sia un corrispondente senso di responsabilità non soltanto non le accetto ma le trovo facilmente comode perché accettare le scuse da chi è stato scoperto secondo me ha una valenza piuttosto ridicola. Il punto economico che hai tirato fuori adesso mi ha fatto ricordare una tua recente intervista proprio qui a Radio Città Aperta, si parlava di crocefissi nelle aule dei tribunali, ad un certo punto hai detto una cosa simpaticissima che ho condiviso, hai detto se domani mattina lo Stato italiano togliesse finanziamenti alla Chiesa Cattolica io sono sicura che sarebbero i vescovi ad andare a smurare i crocefissi dalle pareti. Se mettessimo sul piatto dello scambio i crocefissi con i soldi certamente li smurerebbero loro perché in realtà il potere attraverso la confessione, attraverso la mediazione della spiritualità è soltanto un potere economico, non c'è altro. Noi abbiamo fiumi di denaro che arrivano nelle casse di queste persone. Io vorrei ricordare che l'8 per 1000 serve a finanziare il clero e che tutti quegli spot pubblicitari vergognosi che vediamo sulle nostre televisioni italiane sono una grande bufala perché in realtà l'8 per 1000 all'80% serve per finanziare il clero, per mantenere il clero. Il 20% viene utilizzato per alcune attività nelle quali il Vaticano ha le sue partecipazioni azionarie per cui gli ritorna in termini di denaro, ma l'80% viene utilizzato anche per mantenere lo stipendio dei preti pedofili. Che sia chiaro, senza equivoci. Noi paghiamo i preti che stuprano i nostri figli, i miei per fortuna no perché negli oratori io non li ho mai mandati e mai ce li manderò. E lo hai scritto in maniera molto chiara anche sul tuo libro. Ma questa connivenza terribile con il potere politico che poi oggi in Italia sappiamo al di là di come uno è schierato o meno, sappiamo quanto sia la deriva del sistema politico italiano, abbiamo esempi eclatanti come il Family Day che è stato festeggiato da quattro divorziati e quant'altro in materia proprio di questioni morali. Hai svelato in questo libro anche una piccola chicca che è sfuggita sicuramente più che recentemente alcuni senatori della Repubblica italiana hanno inserito un emendamento all'interno di un decreto in fase di esame denominato norma salva preti che poi fortunatamente non è passato. ritirato, sì, 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 sì